buongiorno ragazzi allora stamattina mi vedete qui nel mio garage che sono all'interno del mio garage vedete ecco ho messo dei cavalletti sotto così con una tavola brutta perché intanto mi serve da da verniciare appunto e mi sono preparata il mio cestino invimini questa cassettina portachiavi che ce l'avevo in questo colore ma mi piacerebbe farla bianca che ce l'ho in cucina e questo carrettino da mettere poi fuori con una piantina dentro e anche questo vorrei farlo bianco ora io mi sono preparata questi tre oggetti non so se riuscirò con la bomboletta fare tutto ma perlomeno ci proviamo quindi mettiamoci al lavoro andiamo quindi a sciabbare il nostro cestino la bomboletta va agitata bene e incominciamo e incominciamo Grazie. Un insetto. Ovviamente all'interno non lo farò perché non necessita di farlo. Io adesso direi di farlo asciugare bene e magari poi gli diamo un ritocchino alla fine. Grazie a tutti. E proviamo ad avvicciare adesso questo. Grazie. 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 seconda mano di bianco al carrellino ed è venuto abbastanza bene direi anche se sono rimaste queste piccole sfumature però nel complesso non mi dispiace da proprio l'effetto antichizzato la mia cassettina anche è venuta bene adesso poi quando sarà asciuta bene toglierò il nastro e anche il mio cestino direi che non mi posso lamentare dal risultato ottenuto adesso deve ancora asciugare bene e poi vedremo nel finale dove andrò a posizionare allora intanto che le mie cosine che ho sciabbato stanno asciugandosi sto facendo questa ricettina che non ne voglio prendere merito assolutamente perché è una ricettina che ho visto fare da una youtuber una mia amica youtuber giulian g anzi se volete andare a vedere andate a vedere la sua ricetta originale che mi è piaciuta molto perché è una cosa semplice e sono sicura che sia buona lei la chiama valdostana io quando ho presentato il suo video ricetta pensavo che fosse la valdostana la cotoletta invece dalle sue parti la valdostana è una pasta sfoglia farcita che adesso vi farò vedere in che modo quindi questa video ricetta video ricetta questa ricettina che sto facendo per stasera a cena non è merito mio assolutamente ma è di giulian g vi invito nuovamente andarla a vedere quindi lei dice di mettere la pasta sfoglia bucarellarla e poi semplicemente mettergli del pomodoro che io ho messo il sale come ha fatto anche lei quindi la polpa di pomodoro sotto così non solo perché non ho tirato subito nella pasta ecco quando se ci siamo il prosciutto bello ricco e poi la mozzarella che io ho già preparato anche questa bella ricca voilà a questo punto vado a prendere l'altro foglio di pasta sfoglia e glielo posizionerò sopra se come a noi piace io ci vado a mettere anche un po di origano dentro proprio come se fosse una pizza mi piace il gusto del basilico che si senta scusate dell'origano non del basilico con il pomodoro ecco qua sono andata a chiudere tutti i bordi intorno onde evitare la fuoriuscita del pomodoro oppure della mozzarella e adesso vado a infornarla a 180 gradi per almeno 20 minuti spero che Giulien non me ne voglia se ho copiato la sua ricetta ma questa era la mia cena di stasera e mi piaceva molto quello che lei aveva fatto e l'ho riproposta mi raccomando andate a vedere la sua originale di Giulien Gi adesso inforniamo siccome ho avanzato della pasta in più perché la pasta sfoglia era un po grande oltre alla teglia voglio ricavare dei torciglioni io li chiamo di pasta sfoglia quindi vado a mettere un po di pomodoro e 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 semplicemente così li andiamo a infornare rimarranno come dei gressini attorcigliati eccoci eccoci la nostra valdostana e e bella cotta guardate quanto si è gonfiata è diventata uno spettacolo e niente io sono sicurissima che sarà buona e dico grazie a giulian g questi questi sono i torcigliotti con pomodoro e origano vedete come sono rimasti sembrano dei gressini di piccoli gressini attorcigliati e credetemi ne ho già mangiato uno sono molto molto buoni allora raga al momento la cestina l'ho posizionata qui davanti al caminetto ci ho messo dentro le mie riviste quelle che devo ancora guardare perché di solito me le porta mia zia e poi io me le guardo con calma quindi qui ho messo le mie riviste eccoci qua questa è la cassettina portachiavi che ho sciabbato questa mattina insieme al cestino questa è la mia bambolina porta sacchetti e niente questo è il risultato secondo me è venuta molto molto bene che ne dite? e invece questo è il carrettino che ho sistemato qui sopra questo piano dove io ho un mobiletto che ripongo le cose da esterno e dentro ci ho posizionato questa piantina che è una piantina perenne tutti gli anni cresce sia questa che questa qui sono piantine perenne ed ecco che ne dite? vi piace il risultato? vi piace il risultato? è è